Il risultato per uno che non ha visto la partita pensa è una partita facile. 2-0 in rigore, grande difficoltà in quel momento lì. Se c'è 2-1 con 20 minuti per giocare, con la gente che iniziava a dimostrare qualche stanchezza, con la intensità della pressione a abbassare, se lui non pare quella lì sarebbe sicuramente dura. Però la vittoria è meritata e molto molto contento con il gioco di squadra. Adesso è tempo di preparare un'altra partita molto importante in Europa, mister. Ovviamente è una partita che non è importante, è decisiva, è dentro e fuori, non c'è un'altra storia. Però vogliamo giocarla e penso che sicuramente lo stadio vada a giocare con noi. Sicuramente ci sarà il grande impegno che abbiamo visto anche questa sera da parte della squadra, che ha dimostrato ancora una volta una grande corsa anche questa sera. Certo, certo. Un grande spirito, grande mentalità. È più difficile giovedì, domenica, che domenica e giovedì. Ovviamente due giorni dopo Rotterdam, adesso tre giorni fino a giovedì. Penso che arriveremo in una situazione buona, non una situazione di stanchezza estrema. E andiamo là, faccia a faccia, andiamo là. Grazie. 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 Grazie.